bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi abbiamo tantissime novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite parleremo e vedremo meglio tutto quello che verrà modificato all'autorità quindi iron man tony stark ma vedremo anche una curiosa storia che sta per accadere su fortnite in game l'arrivo di galactus e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non poteva che essere lui ragazzi il toni nazionale che non è lo chef toni della miracle ma è tony stark ragazzi ieri abbiamo parlato di quello che succederà molto probabilmente all'autorità verrà completamente adattata alla nuova location di tony stark delle stark industries e oggi abbiamo due grandi novità in realtà 3 la prima ragazzi bam la macchina di tony stark una versione modificata della lamborghini no è la il nome in game della lamborghini è la mi sono ricordo non me lo riesco a ricordare ragazzi però sappiamo che avrà delle caratteristiche un po più interessanti la velocità massima sarà 120 e il boost sarà 90 questo vuol dire un pochettino più veloce di quelle che abbiamo in game molto probabilmente quasi sicuramente l'unico modo per trovarla sarà o nella zona delle industrie stark dell'autorità ma mi chiedo come farà ad uscire visto che intorno c'è ancora l'acqua o altrimenti forse nella location quella che è esponata un paio di mattine fa non ne ho assolutamente idea però abbiamo finalmente delle immagini ad alta definizione presenti decryptate da poche ore nei file di gioco nella location nuova di tony ci saranno anche due nuovi forzieri ne abbiamo parlato ieri ma non abbiamo visto le immagini così ad alta definizione come vedete stark industries questa potrebbe essere più che un forziere una cassa di munizioni sappiamo che ci sarà un forziere sicuramente che garantirà i poteri di iron man ancora non ne sappiamo tantissimo qua abbiamo delle angolazioni davvero molto belle da vedere mentre secondo me ho detto solo secondo me questo sarà il forziere classico quello che replesserà i chest che siamo abituati a vedere in giro per la mappa ha più la forma appunto di un forziere quell'altro secondo me un po più piccolino comunque come vedete il logo delle stark industries e lì davanti tanta tanta roba speriamo di vedere presto la nuova autorità e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi tengo anche sempre aggiornati su quello che è in realtà la vera storyline di questa season ovvero sia l'arrivo di galactus il divoratore di pianeti che vuole attaccare ovviamente la nostra mappa per distruggerla è solo per tenervi aggiornati questa è un'immagine del 28 agosto ecco lì la stella che brilla più di tutte proprio quella di galactus non abbiamo avuto delle modifiche il giorno 29 mentre ieri il 30 agosto sembra un pochettino più brillante quindi vuol dire che indicativamente ogni due giorni si avvicina sempre di più io credo che arriverà più che verso la fine season verso metà season e poi chissà che cosa succederà quindi non perdete ovviamente tutti gli aggiornamenti anche per quanto riguarda l'arrivo di galactus e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché stanno apparendo i nuovi rift il che vuol dire che è veramente velocissima l'introduzione dei quattro nuovi punti sulla mappa il primo l'abbiamo visto quello del dove c'è il camion della stark quale sembra quella star qua invece siamo proprio dopo sabbie sudate dove c'è il laghetto dei flopper se andate in game guardate ci sono due nuovi rift e sappiamo che con questa mini mappa che vi sto facendo vedere le location che verranno inserite in mappa sono la security track quello che abbiamo già visto la dog house che è quella che sta per apparire e poi abbiamo il fanter monument il momento e il collector's museum non abbiamo ancora in realtà ben capito perché stanno arrivando queste cose in mappa si vocifera ovviamente che sia tutto causato dal cerchio che formano quei rift beacon che sono attivati e che abbiamo capito facciano parte del progetto di tony stark per fare chissà cosa non ne abbiamo ancora ben chiare le idee quindi godiamoci i nuovi ingressi ma poi staremo a capire più avanti che cosa hanno come significato e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché qua c'è proprio io non so ragazzi allora nei file di gioco sono presenti delle cose molto curiose innanzitutto si parla della nuova skin la principessa fish stick come vedete ragazzi nell'immagine sotto di me c'è proprio una versione femminile di pesce secco con un vestito da principessa lo capiamo ovviamente dal vestito in sé ma dal cappello che è molto molto chiarificatorio e non sarà una cosa che passerà molto inosservata perché nei file di gioco sono presenti anche dei veri e propri oggetti dedicata alla princess che si chiama nelle sottocartelle teriyaki quindi e ce ne sono veramente almeno 60 di voci dedicate a questa principessa non abbiamo ovviamente assolutamente idea del perché stia per arrivare tutto quello che vi sto facendo vedere tutte queste immagini ci lasciano ben pensare che siano degli oggetti che potrebbero stare nella stanza della principessa quindi la poltrona una torta il letto matrimoniale il che potrebbe prevedere l'arrivo di un ipotetico castello io sinceramente non lo so abbiamo anche un'altra immagine in una delle schermate di caricamento come vedete appunto non passerà inosservata è una cosa molto curiosa che ancora rimane lì sul chi va là perché non sappiamo nulla del perché stia arrivando una principessa pesce secco e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo invece confermare la mia teoria che ho notato praticamente subito quando ho sbloccato qualche giorno fa il il martello di thor ragazzi non usatelo non usate il martello di thor perché è uno svantaggio per voi io 9 lo avevo notato subito ragazzi utilizzando come piccone il martello di thor siete più lenti non ci credete guardate questo spezzone video guardate la velocità che ha un normale giocatore sulla sinistra a picconare anche solo due colpi quanto è più lento rispetto al martello che impugna thor l'animazione è stata fatta sicuramente bene ma purtroppo troppo troppo lenta per quanto riguarda lo stile di gioco frenetico di fornite quindi ragazzi finché questa cosa non verrà sistemata io vi sconsiglio di utilizzarlo perché andrete purtroppo in svantaggio e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi una curiosità ieri quando è uscito tutto il set di silver surfer ne approfitto per ringraziare i ragazzi che l'hanno scioppata con il mio codice epigames e si è dimenticata di inserire la copertura reflector non sappiamo se sia una cosa voluta o semplicemente una dimenticanza ma per completare al cento per cento il set manca ancora un oggetto che appunto questa copertura in un video che ho pubblicato due giorni fa dove vi facevo vedere il gameplay vi mostravo anche la copertura potete tranquillamente andare a vederlo e terminiamo il video di oggi con un'ultima curiosità per tutti i fanatici del completismo per tutti quelli che vogliono completare anche la scheda punti dove bisogna ottenere più legacy possibili vi voglio dire che arrivando a livello 220 otterremo la legacy true believer quindi l'icona praticamente di galactus e vi ricordo che a livello 220 si sbloccherà la colorazione finale di wolverine quella olografica insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao